Lo strumento Infomax Optifuel ci ha permesso di individuare problemi tecnici dei nostri camion, ma con un tempo anticipato, nel senso che vediamo prima gli errori di conduzione degli autisti, vediamo se gli autisti partono con la terza marcia invece che con la prima, quindi ha un consumo diverso di frizione e possiamo dare indicazioni agli autisti di guidare meglio. I benefici che abbiamo avuto ad Optifuel Infomax sono il risparmio di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva, in quanto tramite Infomax siamo riusciti a prevedere qual era l'usura anticipata dei pezzi di consumo, tipo frizioni, tipo freni e tutto il resto. Secondo che individuando, controllando la guida dell'autista, capivamo già se dovevamo andare a guardare sulla frizione o dobbiamo andare a guardare sulle pastiglie dei freni. I nostri autisti sono interessati al piano d'economie, in quanto quando l'operatore che col computer gli scannerizza i dati da Infomax, sono curiosi di vedere se hanno guidato bene nel periodo in cui sono stati fuori dalla sede. E questo li stimola personalmente a reagire meglio e a condurre meglio il mezzo.